Oriana Marzoli si ribella a un autore del VIP, il video fuori onda, perché devo stare zitta. Oriana Marzoli ieri sera, durante la puntata in diretta del Grande Fratello VIP, è stata redarguita da un autore del reality. Durante un fuori onda la concorrente venezuelana stava discutendo con Nikita Pelizon quando uno degli addetti ai lavori l'ha invitata a fare silenzio, ma perché devo stare zitta, lo sfogo della VIP. Il video che sta circolando su Twitter, ripreso dalla diretta del GF VIP di ieri sera, mostra come Oriana Marzoli si sia infastidita con un autore dopo esserle stato chiesto di fare silenzio. Stava parlando con Nikita Pelizon, con ogni probabilità dell'uscita di scena di Antonella Fiordelisi. Quando una voce dall'altoparlante ha chiesto il silenzio. La concorrente ha però continuato il suo discorso. Comportamento che ha fatto alzare la voce a uno degli autori, silenzio ripetuto con toni alti. Ma perché devo stare zitta? Ufa è stata la replica immediata della VIP prima di sedersi al suo posto, in silenzio. Un altro richiamo è avvenuto poco dopo, Oriana, Nicole e Joelle stavano parlando sul divano quando lo stesso autore è intervenuto nuovamente. Dovete stare in silenzio ripetuto prima di rispondere alla reazione della incorvaia. Sorpresa dall'accaduto, grazie a Nicole. Per Oriana Marzoli quella di ieri sera è stata una puntata difficile. Per pochi minuti si è discusso sulla squalifica di Daniele Dal Moro, il conduttore. Alfonso Signorini, ha fatto notare alla concorrente che reality ha fatto caso anche alla sua reazione al gioco con l'ex inquilino prima che venisse obbligato ad abbandonare la casa. La VIP venezuelana teme che ora, sino alla finale, non potrà avere notizie di Dal Moro, il mio pensiero è lì. Sono sicura che non mi faranno vedere niente. Anche Tavassi lo pensa, 14 giorni qui chiusi. Senza sapere niente, lo sfogo con Nicole in curvaia a fine puntata. Grazie a tutti, grazie a tutti.